All'opera, tu prendi questa vita e giocala, avrai coraggio di chi il mondo cambierà, all'opera... Avere, 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 avere... Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Non ci siamo, non ci siamo. No, 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 no. No, 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 no. Discretamente. Discretamente. Allora, cantiamo un po', forza! 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 Vediamo che la fa bene. La conosco, no? Forza, forza. 2000 punti. Vediamo un po' qui a segnare 2000 punti. Assegniamo 2000 punti, forza. Un altro, forza, bene sentire. Un altro, forza. 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 Visto che a questo ora stanno ancora dormendo, ti dobbiamo svegliare, sì 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 sì, ti dobbiamo svegliare, allora lo rifacciamo di nuovo, svegliamo un po' con le persone che a questo ora stanno dormendo, siamo pronti? Allora, spada rossa anche voi che vi vedo, riporto i punti, allora, pronti animatori anche voi? Oh, ale, e cica e cica e tocca, e ale, e cica e cica e tocca, e passa, e passa, e passa, e passa, e passa, e passa, e non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, stanno ancora dormendo. Siamo pronti? Allora, come siamo? Cosa è successo? Che è successo? Ok, allora animatori, animatori, portate il cordone anche qui davanti, fermiamoci qua, animatori, animatori qui alla mia destra, venite qua, formiamo il cordone qua che dopo lo stiamo andando qui, qua, 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 mettiamoci qua, Don Antonio, sta qua, sta qua. Bimbi, forza sul marciapiede, animatori, forza, facciamo salire i bambini sul marciapiede, tutti sul marciapiede, forza, forza, tutti sul marciapiede. Guarda rossa, forza. Ok, cercate di salire i bambini sul marciapiede. Allora, bambini, al mio tre cerchiamo di fare silenzio. Uno, due, tre. Eccoci, allora siamo arrivati al contino con cui lo me ne vamo, dove abbiamo la statua della nostra mamma di Casandrino, la quale guarda verso il nostro paese per proteggerci e per vogliare su di noi. E allora iniziamo a fare un grande applauso alla Madonna. Anche se il Vangelo per questa giornata non era previsto, ascoltiamo il Vangelo, diciamo, del giorno, nella festa di San Benedetto. Ascoltate tutti quanti, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro rispose a Gesù, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e te abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro, in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, sederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelli, o padre, o madre, o figli, o campi, nel mio nome, riceverà cento volte tanto e avremo in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Allora, bambini, voi credete che questa giornata bellissima è un dono che Dio ci ha fatto, sì o no? Sì! Siete sicuri? Sì! E allora noi dobbiamo dire di nuovo, Gesù ti amo e ti dico grazie, al mio tre, Gesù ti amo e ti dico grazie. Uno, due, tre! Gesù ti amo e ti dico grazie! Ecco, questo è il cento per uno che Dio ci ha promesso, una giornata bellissima, con le persone che amiamo, i nostri genitori, con gli animatori, la piscina che faremo dopo. Il Signore è fedele con noi ed è con noi, ed è con noi anche grazie alla mamma bellissima. E allora facciamo giusto, facciamo giusto, 10 Ave Maria per la mamma e dopo andremo via. Ah ok, allora facciamo una sola, vabbè, vedo poi lo faremo in giro per me in giro. Ok, pronti? Pronti? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora, un Ave Maria, detta bene, detta bene, detta bene con tutto il nostro cuore, ok? Ave Maria. Grazie a me, grazie al Signore, con te, tu sei la verità e a coole donne, il diritto è fruto che tu sei la testa. Santa Maria, Mare di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amme. Il Signore sia con voi, di benedica a Dio di Potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E viva Gesù e viva Maria! Grazie a tutti!